Ciao a tutti carissimi amici e bentornati sul canale del Brigadish, ma questo non è il canale del Brigadish, questo è anche il canale del Briga. Faccio questo video per farvi vedere che oggi, due giugno, festa della nostra Repubblica, ho sempre detto ragazzi in questi giorni sfoggiate, sfoggiate la maglia del Milan, cercate di andare in giro, sempre petto in fuori, orgogliosi di quello che abbiamo fatto e quindi ragazzi, come vi ho sempre detto, queste maglie sono da sfoggiare, proprio anche nei giorni festivi, proprio le domeniche, le feste comandate, quindi questo è l'abbigliamento giusto, quando siete a girare, petto in fuori, petto in fuori, che siamo il Milan, che siamo campioni d'Italia, facciamo la soffra, che è bella, ce ne andiamo in giro, con la bici, con la biciclettina, durante il 2 giugno, e sfoggiando la maglia dei campioni d'Italia, madonna, è vero, che è molto semplice, con le scudette, yes, ciao a tutti ragazzi, vi voglio bene, che è bella, che è, che mi dice bella, madonna, petto in fuori, testate.